Buonasera dal Tg della Mobilità. Domani dalle 9 alle 13 in centro Sitin a Piazza Santi Apostoli, un presidio di protesta dei lavoratori della sanità privata. Oltre alla rimozione dei veicoli in sosta, possibili rallentamenti si potranno verificare al momento dell'arrivo dei partecipanti alla manifestazione. Gli aggiornamenti sulla viabilità si potranno seguire sul sito muoverseroma.it e sul profilo Twitter Roma Mobilità. Le altre notizie, cantieri in città e modifiche per la circolazione del traffico in via di Boccea per i lavori all'altezza di via Pantà Monastero, carreggiata ridotta e senso unico alternato. In via Nomentana, cantiere sulla rete idrica all'altezza di via Ettore Romagnoli, in questo tratto senso unico alternato sino al prossimo 14 settembre. Infine a Monteverde Vecchio, divieto di transito in via Massi per lavori di ripristino del fondo stradale tra la circonvallazione Gianicolense e via Guinizelli. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.